La stazione ornitologica abruzzese dice no all'ennesima cava da 400.000 metri cubi da realizzarsi a Tempera, frazione dell'Aquila. Il progetto è stato depositato al Comitato di Valutazione di Impatto Ambientale della Regione e la stazione ha già presentato le proprie osservazioni affinché non venga realizzato. I proponenti, come ha spiegato Augusto De Santis, operano già in altre cave vicine e vorrebbero riattivare la vecchia cava masce abbandonata ampliandola. Una cava però ricorda la stazione che negli anni 90 fu protagonista di inchieste e sequestri e venne richiamata più volte negli atti della Commissione parlamentare d'indagine sui rifiuti. Il centro masce fu sequestrato dai carabinieri nel 95 e una cava che va precisato non c'entra nulla con quella vicina che attiva e regola quelle autorizzazioni. La stazione ornitologica abruzzese nell'osservazione ha fatto notare altre criticità. Verrebbero abbattuti gli alberi che ospitano una colonia di Erone Cenerino. Non viene chiarita dai nuovi proponenti, spiega De Santis, strane alle vicende e alle problematiche del sito risalenti nel tempo, la situazione ambientale attuale della cava in relazione a gravissimi fatti riferiti dalla Commissione parlamentare. Alcune delle particelle catastali, rileva ancora la stazione e coinvolte nel progetto, sarebbero in realtà aggravate da uso civico. Quindi è stato richiesto l'accertamento della reale condizione e disponibilità delle stesse. Altre motivazioni riguardano la vicinanza del fiume Vera e il fatto che l'area è agricola. Si tratta di un'area che è già interessata da diverse cave, nelle aree limitrofe, e appunto c'è questa proposta di allargarsi a Monte Caticchio. In realtà lì c'è una vecchissima cava, Cavamashi, che fu interessata da inchieste nel passato, fino addirittura ad arrivare a un sequestro nel 1995, in quanto secondo le carte della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, lì andavano a scaricare addirittura i casalesi. Noi non sappiamo poi come è andata a finire quella storia e neanche i proponenti del progetto, che infatti ammettono nelle carte di non saperne nulla della storia di quel sito. Noi abbiamo rispolverato queste carte, abbiamo segnato alla Regione che dovrà valutare il progetto di, insomma, approfondire questa tematica, perché vorremmo capire se l'area poi è stata caratterizzata dal punto di vista ambientale per quanto riguarda eventuali inquinanti, se ci sono ancora rifiuti, insomma serve una caratterizzazione. La stazione ornitologica ha ricordato che chiunque può presentare le proprie osservazioni entro l'8 febbraio 2022 al Comitato Via della Regione Abruzzo.